Bella a tutti ragazze, vedo in questo nuovo video Io sono Semma, non far tremare la telecamera Oggi siamo qui per una nuova partita Su FRC24 Io sono Semma e lui è? No, 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 ho detto che metta Aspetta, passiamo il volume Perché si muove se ha telecamma? Che tiene sto buffo? Ma che ne so, tu stai fermo, stai fermo Ok, passiamo il volume Mettiamola dietro a zero E' un passito tremendo Facciamo le formazioni No, faccio io, ok, faccio io RETEGUI Non è, una cosa non è RETEGUI Forse RETEGUI Che è successo su World Football Non tengo il tablet a disposizione C'è RETEGUI RETEGUI Come è sterno? No, non sto capendo Perché non si sta Fammi cambiare Aspetta No, che fai? Che fai? Che ti sto aiutando? Scusami, com'è che fai? 4, 3, 3 E sei fermato Ti dobbiamo mettere la roba buona Moduli Ma che hai messo il gnoto? Ma no Ma ma no Come si fa a mettere moduli, Dio? Moduli 4, 3, 3 Me lo vuoi mettere, santo? No, se no Eccoci tornati Senti, tu stai detto Io vengo a fare moduli E sono passati due minuti E poi un minuto e 44 E come i gatti E tu devi ancora fare le formazioni Scusami 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 Stai fermo Che lo fai? Perché lo devi fare tu? No, no, no Io non ce lo faccio più Io mi spacco qualcosa Ma quello sta a 4, 3, 3 No, vedi? Stelle sinistro E tu che vuoi mettere? Questo è il 4, 3 Ah, vero Ma si dice idiota Attaccante sinistro qual è? Ma poi che ci fa la spagioria e buongiorno là? Che ci fanno? Perché? Boh... Buongiorno un giorno in realtà Sì E che c'è? Prima cosa? Ma perché sta a chiesa in riserva? No, ma che... ma che sta a chiesa in riserva? A chiesa in riserva? No, è uno qui Ma cosa faccio, fratello? A mettere a chiesa in riserva Ah, ma perché il mio di Marco è in riserva? Ma che non so, questo avesso più forte ci voleva perdere Es Grifolo 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 Ma anche partesi Dicidi No, l'avevo sotto Loi perché mi sono tipatico L'aveva fatto Loi Il giocatore dell'Atalanta Ah, finalmente Sediamoci E si parte In Italia... però non devi sbattere Scusami Scusami Non mi ricchiare Ecco è iniziata la partita Fiammina fermati Che? Non è passata se hai giunto per terra Io sono in piedi perché non riesco a giocare da subito Tieni tu la palla Vai, vedi Passa Vai, vai, vai Uff, la andrai a mettere in mezzo Oh, è male Ma che male Io non lo tengo i tocchi con i bracci Come non li vedi? Ma non lo so perché dove si mettono i tocchi con i bracci Le impostazioni Ferma questo Un mano Gola dell'Ungheria Gola Ha sbagliato Go, go, go Non lo so Passa Dai ripartiamo Andiamo a farne 1 a 0 per l'Italia Perché non la passi? Perché ne vado a mettere in mezzo Tieni, passa qua Ma non lo so Ma che ha fatto questo? Me lo spieghi? Io ho premuto i' Vabbè questo corpo molto scemo Passa No, no, indietro Eh, vabbè, oh Bella Ripassa L'ho passata Cristiano No, guarda qui Ma quello non era mano scusami Eh, infatti Cioè, tu non tieni l'impostazione delle mani Eh, li metterò Passa No, che passaggio astuto Metti qua, metti qua Eh, fallo Fallo, finizione, finizione No, dai, ti prendi il suo segnale Ok, penso che il suo segnale Tu hai segnato l'altra volta contro Gitaro Nel PSG Mi pare contro il Socceride Però hai perso sia 2 Mi ricordo mo perché E' un paio che mi senti fa Eh, percora la barriera penso Eh, mannaggia No, io non ho capito perché è tirato così pieno E l'ho tirato potente Cioè, ha premuto proprio tutto cerchio premuto Oh, acchiappa Acchiappa Crist Occhio Bello, bravo Oh, 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 oh Passa qua Che palla Se passava questa Non di cosa Tu matri 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 Billy Godo, 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 vai via, Ungaria. Oddio, che... Vuol dire che è sedere? Mamma mia, che ripartenza. Bello! Corri, 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 corri. È buona! Passare in mezzo! Non c'è nessuno in mezzo. No! Ma non l'avevo neanche vista, per rari. Ma che palla che tengo in mezzo? Eh, bella azione. Che palla che mi hai messo? Frrra, frrra. Spaccai le cosce, amico, spaccai le cosce. Arbitro, però, arbitro. Non so perché mi sto lamentando con te. Passala! Ma quello non la passa... Oh, passala! Non la passa! Voi, 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 voi. Oh, passala! Addio, ti sto prementendo 600 volte! E non la passa! Ottima palla per l'Ungheria! Fumo! La buttata fuori! Fratello, dove te la porti? Non lo so! In Cederonia! Passa! Passa! Ah! Vabbè, è nostra! Che batte il mio! Passa! Io la metto in mezzo! No, guarda! Io! Non lo dire più! Che la metto in mezzo! Bello! Bello! Passa qua! Beh! No! Fallo, fallo, fallo! C'è via di mezzo! E dai, pure di mezzo! Buttalo fuori! Vabbè, poi c'è impossibile! Ripassa! Tecnica mia! Ripassa! Non lo so che ho fatto! Perché? Passa qua! No! Era buono! Eh! Era un po' difficile, perché era anche da fuori aria! Bello! Passa qua! Goal! Goal! Sì! 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 Entrato il ballone! 1-0 in Italia! Alessio! No, Domenico! Ah, vero! Domenico! Benanti! Domenico! Benanti! Iasi! Riusciamo a segnare almeno molto le squadre scasse! No, 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 non lo dire! I pannucci fanno tutti i complimenti! Oh! Oh, chi ha fatto questo? Avete visto? Parato di Donnarumma! Chi ha parato Donnarumma! No! Per quante non rimaneva in campo che la palla? Passa! Spingila! Passa! No, non me l'aspettavo che la palla! Puzzare! Questa è uscita! Forse mi pesce! Passa! La buona Dio dell'erorista! La buona Dio dell'erorista! No, mettila e mezzo! Mettila! Ma perché là? Ma non lo saranno messa là! Parvizio! Ma che c'è messa? Passa! No! Che ha parato? Il tuo bannino! Passa qua! No, non forse! Passa qua! Ho chiamato il giocatore! Passa! E diciamo... Passa! Ma come fai a giocatore ad andare così vicino? Facciamo la nostra tecnica! Oh! Buttata! Ma è buttata per là! Ma è buttata per là! E va bene! Ma si è alzato subito! Ma è nuovo? Passa qua! Oh! Oh! È passato! Passa! Go! Ma guarda questo! Ma fratello mio! Sei proprio forte! Bello! Prendilo! No! Passa! Passa! Di testa! C'è cross! Ma guarda questo che non preme subito! No, ti prego! Non questa ripartenza! Non incontro perdiamo! E passa! Andiamo! Da là! E a chi la do? Me lo spieghi! A quel giocatore! Un marone! No! Ma questo farà tutto! Passa qua! Passa qua! Passa! Questa tecnica ora funzionerà! Vedete? No! Ma paraco non ho capito! No! C'è visto che... C'è... No, no! E ridendo! Che cosa applaudi? Che cosa applaudi? Ah, mi ha finito il problema! Eh! Non facciamo cambi? No! Perché questo qua che cosa applaudi? Mi fa arrabbiare molto! Un cazzo! La buona dio de morista! La buona dio de morista! No! Ripartenza ungherese! Perché dietro me la devi passare? Ma no! Io non la volevo dare dietro! Passa qua! E no! Fatelo passa qua! Fatelo! Aspetta! Lo vuoi passare? Mettila in mezzo! Ma no! Tira! Fuori il gioco! Ma non l'ha toccata! E' vero! Non l'ha toccata! Non dovrebbe essere pure il gioco! No! L'ha imbrogliato! L'ha imbrogliato! Voglio il bar! Voglio il bar! Ma ma non è voi che ha costruito! Voglio il mio bar! Cioè, l'ha toccata? No! Non l'ha toccata! Ma il gioco lo fa! Perché ti vuole far perdere! Ma pure con gli altri lo fa! Ma sta vasta palla era oro! Toma! Toma! Sono ucciso! Oh, fratello! Calmati! Aspetta un secondino! Scusatemi! No! Nel frattempo è un contropiede dell'Ungeria! Bello! Bello, fratello! Bello! Bello! Bello, guardalo! Non avrò più nessuno dal mobile! Ciro, Ciro, Ciro! No, non metto fuori gioco! Fuori gioco! Ciro! Ciro! Si fa tutto il campo! E poi segna! Il mobile! Ciro! Il mobile! È il giocatore della Lazio! Infatti sei mobile! No, mi sa che se ne va a casa il mobile! Facciamo una cosa sui segni! Dai, mettiamo a reteghi! Retteghi al posto di mobile! Beh, faccio un go! Dai, Retteghi, faccio un go! Ora leviamo a brucio! E mettiamo a darmiano! Darmiano! Ora leviamo a... Ah! Non è successo a darmiano! E mettiamo a... Ah, leccas! Il nostro ameretto! Meretto! Oh, calmo, calmo, calmo! Non sei un tras! Uno di noi! Meretto! Uno di noi! Uno di noi! Ah, 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 ah! Stai calmo! Mi sono fatto male! Avete sentito la botta? La buona? Guarda la cerbi! Ma voglio la cerbi è troppo qua! Bello, rimasta qua, rimasta qua! Aspetta! Che fai? È la bella nostra! A me è nostra! Uè! Ripasta qua! Bello, passa qua! Non è in mezzo, non è in mezzo! Mestila subito! Sì! RETEGUI! 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 Come si chiama? Matteo! MATEO! RETEGUI! Ma è chi? Ma è italiano? RETEGUI! RETEGUI! Se c'è no, non giocava in nazionale italiana! C'è no, non giocava in nazionale italiana! Ma è però che sia americano e sia italiano ma giocare all'Italia! Lo sai che il solito poteva essere italiano? Meretto! O CRIBIO! Grande emerente! Perché il padre argentino aveva nato in Italia! Quindi vuole essere sia argentino e l'italiano! Ma è sì, ma è argentino e l'italiano! Eh, ma è invece ha voluto giocare nell'argentino, poteva avere la scelta! Ma chi? Ehm, Cionito! Ah, vero! Ma in modo la metto in mezzo perché di Lorenzo è forte! Io inizio a mettermi in mezzo bene! Sono in fuori giochissimo però! Oh! Oh! Allora che faccio? Te la metto? Tra l'altro faccio con Di Lorenzo! Guarda, te faccio con Di Lorenzo! Con Di Lorenzo che è partito con la difesa esplodeva, penso! No, no, no! Mori! No! Prego, no! No! No, lo butta fuori! Non è vero! Era già munito di colore! Non l'ammo non ha fatto niente! Che? Da! Spè! Facciamo una testa di partenza! Vai! Passerà, passerà! Allora, arrivi il bello! Che ha fatto questo? Dagliela! Che fanno? No, volevamo fare un'altra partita dopo però senza il video! Passa, passa, fratello! Passa, fratello! Passa! Aspetta! Aspetta! Mettila in mezzo, mettila in mezzo, mettila in mezzo! Aspetta, ti lo teni! Eh! No, no! Ura, mira! Sì! Giorgio! Non verratti! Non verratti! Vabbè, abbiamo fatto quattro gol e mi sa che ora è veramente chiusa! Quattro! E chi ha fatto doppietta? Boziro, Ciruzzo! Ma non è vero, Ciruzzo ha fatto un gol! Eh, vabbè, allora mi hanno segnato quattro giocatori diversi! Ah, ma sì, è vero, Ciruzzo ha fatto un gol! Meret! Alex! Uloi, uloi! Alex, uloi! Alexandro! Alex Meret! Soboslai! Giocatore di Udine! Soboslai gioca nel Lille! Mamma mia, mamma mia, che palla, che palla! Soboslai dove gioca? Mordo, no! Soboslai, sì, si gioca nel Lille! Ma è Liverpool, se non lo sbaglio! Oh! Oh! Soboslai! Passa! Passa, passa, passa! Tu, tu, tu! Aspetta, fratello, aspetta che te la metti in mezzo! Fratello Verrace è fortissimo! Ma mettila! Io ho provato qua adesso la prima! Non so se l'hai visto, io ho provato qua adesso la prima! Comunque ho un dubbio che questo video venga storto perché la gestazione sta là ma non fa niente! Non ho capito! No, ho paura che il video venne storto ma non fa niente! Come viene storto? E guarda la gestazione sta qua! Oh, nel fratello c'è un grande controvedere dell'Ungheria! Però se lui... Meretto! Come sei forte! Un'altra sveglia! Vai, vai, te la metterai in mezzo! Ma sono solo io, con barella! Ma barella? Io sono barella! Non hai toccato la palla! Mannaggia! Uscita dal quartiere! Oh, è palla però, ratello! Ma è che... Ma mi ha stialzato subito? Che palla! Eh, però... E' una motticida! Prendila, prendila! Ok, bene, no! No, dai! No, dai! Facciamo il gol della partita senza le conclerla! Com'era? No, dai! Ti prego, no! Ma è gol! Vabbè, oh, vabbè! Vabbè, stavamo dicendo 4 a 1! Beh, passa! 4 a 1 per gli italiani! Inoltre con il converratti! Sì, però non la tenerei tutta tu! Perché se no non mi diverto! Eh, a chi la passo ora? Cioè, a chi la passo? Eh, vabbè! Stavo solo io! Vabbè, bello, bello, bello! Questa è gol! Basta! Mettila! Aspetta! Tiro! No! Bella, bello! No, guatta 2, no! 4 a 2, no! Guardate, guardate, guardate! Lo becco io! Oh, ma no! Ci sta... Ci sta... Darmiano solo lui! Occhio a sboss... Dagli! Vabbè! Sboss... Spingila! Tirita 4 a 1! No, poi! Aspetta, aspetta! Vediamo un po' dei lights! Vabbè, i lights no, non li vediamo! Stai fermo, stai fermo, stai fermo, stai fermo! Facciamo una cosa in la copertina! Bella partita! Oh, mi è piaciuta questa! Abbastanza equilibrata! Dai, possiamo fare una partita a ringraziare Dio noi! Comunque ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete like se il video vi è piaciuto! No, ci vediamo la prossima volta ragazzi! Ciao da me e da... No! Ciao! Ciao!